Oggi voglio raccontarti della mia esperienza come Corporate Public Speaking Trainer per Acegas APS AMGA S.P.A. del gruppo ERA. Rimani con me in questo video e ti condividerò uno dei casi studi aziendali per i quali vado più orgogliosa. Ciao, sono Chiara, founder della Chiara Alza T.S.R.L., allenatrice di Public Speaking e di Video Public Speaking. Grazie al metodo Parlare Chiaro ti guido, ti ispiro e ti motivo nella realizzazione del tuo potenziale di comunicatore per essere credibile, autentico e autorevole, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso programmi personalizzati. Il caso studio di cui voglio parlarti oggi è un training che ho progettato ed erogato nel 2020 per 200 dirigenti di Acegas APS AMGA S.P.A. La responsabile della formazione, Giuseppina Rao, nel nostro incontro di presentazione ha esordito così. Chiara, di recente ho letto e apprezzato il tuo libro, Public Speaking per Smart Worker, e mi piacerebbe coinvolgerti come Corporate Trainer di Public Speaking per il progetto aziendale di formazione Sapere Costruire. Ho accettato con grande piacere ed entusiasmo la sfida e ho progettato ed erogato un webinar della durata di due ore per ben due volte, così da permettere a tutti i 200 dirigenti di poter partecipare. Dato che Giuseppina, la responsabile della formazione, mi aveva subito detto che uno degli obiettivi di questo webinar doveva essere quello di fornire ai dirigenti delle tecniche concrete per essere più efficaci nelle riunioni a distanza, ho concentrato il mio training proprio sul Public Speaking Online, ovvero sono andata a spiegare come superare l'eventuale disagio di una comunicazione a distanza, sono andata poi a spiegare anche come strutturare un ordine del giorno efficace e come mantenere alto l'interesse del pubblico anche online. Nel programma del webinar ho trattato anche il metodo TTI Success Insights, fondamentale per ogni manager affinché questo possa riconoscere il proprio stile di comunicazione. Quando un manager tiene una riunione, soprattutto a distanza, inconsapevole del proprio stile di comunicazione, rischia di comunicare soltanto per chi è simile a lui e di perdere totalmente l'attenzione dei collaboratori che sono diversi da lui. La bravura, la credibilità, l'autorevolezza di un manager passano anche dalla sua capacità di comunicare in più stili, non soltanto nel proprio stile, perché quando un manager è capace di comunicare in più stili in una riunione, riesce a tenere alta l'attenzione di diverse tipologie di persone e dunque a tenere alto l'interesse verso quello che sta dicendo. E in più, ciliegina sulla torta, l'azienda ha pensato di regalare ai partecipanti più attivi e coinvolti nel progetto Sapere Costruire ben 12 mesi di accesso alla mia Accademia del Public Speaking. Per sapere di che cosa si tratta, vai nel link che trovo in descrizione. Ha funzionato questo training di Public Speaking? Io direi di sì, ma tu vai a leggere la testimonianza di Giuseppina Rao. Desideri migliorare le competenze comunicative del tuo team esternamente e o internamente all'azienda? Possiamo farlo insieme. I miei corsi di Public Speaking per le aziende sono sempre progettati su misura secondo le tue esigenze. Costruiamo insieme il programma e decidiamo insieme anche la modalità di erogazione. Sono possibili corsi in presenza, corsi online e corsi in modalità ibrida, ovvero parte in presenza e parte online. Clicca sul link che trovi in descrizione per chiederci maggiori informazioni. Ciao e al prossimo video!